Ho sorpreso Shiva con una delle mie custom, gli ho realizzato una Nike Air Force 1 completamente bianca con pelle stampa coccodrillo Volevo fargli delle scarpe uniche ma allo stesso tempo che lui potesse indossare con semplicità Magari in qualche sue live, quindi ho giocato sui dettagli e mi sono fatto realizzare da Davide di Snakeway questi passaracci in oro 18 carati Ora trovate parte della consegna, trovate il video completo su Youtube Mio fratello Pintoneto! Ohhhh! Ohhhh! Per il peso frappato!